e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi giornata positiva dopo un weekend positivo e una settimana positiva meglio di così al momento non può andare ma stiamo vedendo ora il momento della verità perché come commentavamo nelle scorse analisi se vi ricordavate se vi ricordate o meglio al presente il la prova è proprio lo sweep dei massimi locali 49.000 e la reazione che avremo dopo di esso oggi stesso abbiamo sweepato i 49.000 abbiamo anche toccato i 50 li abbiamo superati per un po adesso ci stiamo orbitando intorno e stiamo cercando di capire per l'appunto c'è in atto questa battaglia domanda offerta intorno a questi livelli chiave e stiamo cercando di capire come si assesterà quindi è più importante che mai adesso andare a vedere per bene la situazione su vari time frame andremo a vedere sia il settimanale visto che è lunedì e abbiamo chiuso una settimana molto bene molto positiva e anche sul daily per contestualizzare riguardo la nostra struttura di range nella quale ci stiamo barra stavamo muovendo parlo ancora al presente perché in realtà deve ancora chiudere la candela di oggi sopra ai massimi locali quindi vediamo appunto quale sarà la reazione dell'offerta se ci sarà commentiamo insieme i possibili scenari e cerchiamo insomma di capire cosa caspita sta succedendo aggiorniamo le nostre analisi vediamo se c'è qualche notizia degno di nota quali sono i driver che stanno portando avanti questo rialzo molto costante che non ha ancora visto un ritracciamento vero e proprio perché abbiamo avuto sì qualche settimana di lateralizzazione ma come potete vedere su questo time frame si tratta proprio di un range anche tra l'altro piccolino in ampiezza quindi ancora nessun ritracciamento rialzo che sembra molto forte molto sostenuto cerchiamo un po di capire quali sono le narrative trainanti diamo anche un'occhiata al mercato altcoin in particolare a ethereum che inizia appunto nel caso in cui appunto si consolida una struttura di questo tipo inizia a diventare interessante soprattutto per alcune narrative che si stanno sviluppando su di esso e stanno veramente portando avanti il tvl lo staking ci sono tante metriche fondamentali di ethereum in crescita e il prezzo contro bitcoin è ancora molto debole quindi può diventare davvero interessante iniziare a tenerlo d'occhio e seguirlo proprio in ottica di possibile inversione di struttura di prezzo che potrebbe avvenire bene abbiamo una marea di cose di cui parlare e ultima ma non ultima giusto per fare un po di di fomo che purtroppo inizio a vedere nell'aria ragazzi questa vi ricordo è la fomo cuffia e è un monito un monito a non farsi prendere dalla fomo indossare la fomo cuffia significa è un gesto è ovviamente come si può dire metaforico ma non troppo perché è una cuffia vera questa che significa mettiamo la fomo cuffia placchiamo la fomo perché quando inizia a dilagare tanta fomo nell'aria non è mai un buon segno tendenzialmente ok non bisogna mai farsi trascinare dalla fomo altrimenti si finisce a prendere decisioni errate mi raccomando razionalità prima di tutto strategia di lungo termine mai aver paura di perdere treni farsi prendere dalla fretta far le cose di fretta altrimenti è tardi assolutamente no queste sono tutte pessime abitudini quindi fomo cuffia in testa razionalità strategia di lungo termine e passa la paura e adesso andiamo a vedere bene tutto ciò che succede perché parlo di fomo perché ci sono guardate delle delle analisi che iniziano a girare a parte questa è carina di grayscale che spiega perché l'alving quest'anno cioè 2024 è completamente diverso stavolta è davvero diverso o meglio hanno parafrasato il mio questo cambia tutto veramente grande grayscale ti chiederò il copyright e poi c'è anche il mitico bernstein che ha fatto un loro sparano veramente a 90 con la fomo preparatevi per un rally basato sulla fomo a record massimi record insomma s'aspettano veramente che il grosso della fomo debba ancora arrivare una volta che arriverà visto che ci sarà anche le tf ci saranno effetti veramente cataclismici sono cose che ti fanno ti contagiano no con la fome per questa ragione c'è da indossare la metaforica fomo cuffia ovvero starsene razionali quando l'euforia domina il mercato esattamente come quando lo sconforto domina il mercato sono i due momenti in cui è più importante che mai rimanere razionali e non farsi prendere dalla corrente e noi lo faremo come sempre mi raccomando sempre e comunque massima disciplina sui mercati detto questo l'ultima volta mi son dimenticato ma non me lo scordo stavolta il like mi raccomando cioè con tutta la forza che avete sta funzionando funziona sempre quindi mi raccomando tartassati il like cliccate lo 700 volt no che sennò poi lo toglio una volta è sufficiente scherzavo ma scherzi a parte ragazzi il like fa sempre piacere anche per dire io c'ero nella buona stavolta come nella cattiva sorte in passato io c'ero iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre sul pezzo con tutto ciò che accade tutto ciò che c'è da sapere sulle cripto abbiamo un sacco di contenuti anche per questa settimana pianificati che possono proprio aiutare anche ad affrontare il mercato nel modo corretto lo vedrete e quindi mi raccomando iscrivetevi che anche un modo ovviamente per sostenere il nostro lavoro perché ci aiuta a crescere e dall'altro per rimanere sempre sul pezzo ed evitare appunto fomo e sconforto mentre si rimane invece razionali vi chiedo anche cosa vi aspettate voi io visto che oggi siamo in tanti vedo vi vedo belli carichi e questo è un altro segno no che la fomo sta tornando un po alla volta mi raccomando fomo cuffia io vi chiedo per partire così partiamo proprio col vostro feedback cosa vi aspettate adesso da bitcoin pensate che questo 50k sarà un top locale oppure è solo l'inizio insomma cosa cosa vi aspettate in questo mare di fomo dite siete d'accordo con bernstein secondo il quale è solo l'inizio oppure ne vedete un po troppa e potrebbe essere un top locale fatemelo sapere qui nei nella chat dal vivo e nei commenti per chi ci leggerà e guarderà dopo 50k solo l'inizio solo l'inizio oltre ai mai pre alving bull market per forza beh ragazzi il bull market è iniziato da moe ormai il bull market oggi leggevo qualcuno che diceva oggi inizia ufficialmente il bull market da dire ma scusa ma sei uscito da un bunker oggi non dove sei stato fino ad ora non capisco non capisco ora direi un po di respiro fino all'alving top locale pubbli fomo troppa troppa fomo puntiamo ai 3k entro la notte con cose a ethereum ethereum è bello carico adesso lo andiamo a vedere per bene cerchiamo di contestualizzare la situazione di ethereum gary ha shortato ma poi io ho saputo che il figlio della lagarde ha shortato bitcoin ai minimi quando ha fatto questo questa shadow qui vedete tac qua sotto in questo punto il figlio della lagarde ha aperto uno short in leva 100 per perché diceva che l'etf è stato un flop e quindi ha shortato in leva 100 per mi spiace non non ce la fa mai non ce la fa mai va così va così sono 14 mesi che stiamo in bull ma sì il 2023 è stato un anno veramente veramente forte molto molto forte venerdì negroni gratis per tutti con i profit di bitcoin a proposito ragazzi io ve lo ricordo vi ricordo una cosa giusto per compagnia no per ovvi motivi allora innanzitutto come qualcuno giustamente ha commentato lo scorso video la vera ragione del pump è che il mercato ha iniziato apprezzare il nostro halving party e l'open bar che si terrà il 26 aprile 2024 milano corso di porta ticinese vi racconterò tutti i dettagli tra non molto state sul pezzo perché non è voi direte sia open bar e partecipazione gratuita già sono sufficienti ma non è niente in confronto a quello che scoprirete quando annunceremo ufficialmente l'evento quindi tenetevi belli in fomo e vi pubblicheremo una landing page proprio una pagina dedicata all'evento dove ci si potrà iscrivere e appunto terremo l'elenco degli invitati e quant'altro quindi non anche lì andate in fomo quando sarà il momento nel frattempo per scaldarci questo giovedì 15 febbraio c'è un altro meetup gratuito sempre a milano a lux e che è ormai la sua terza o quarta edizione non mi ricordo ce n'è uno al mese e è un modo per incontrarci in tanti di voi infatti ci siamo visti negli ultimi mesi ed è in zona lambrate vicinissimo alla stazione stra comodo tra l'altro anche per me che vengo da piacenza sono super comodo col treno e a lux che è un locale che viene spesso adibito a ritrovo no per cripto investitori proprio perché il proprietario è molto sul pezzissimo nel mondo cripto e quindi aperitivo c'è un po di pizza in compagnia così dalle 19 in poi io ci sarò se ci sarete anche voi ci conosceremo barra rincontreremo io lo spero e quindi ci vediamo lì ovviamente ingresso libero gratuito per tutti quanti e chi manca ha shortato bitcoin insieme al figlio della lagarde soprattutto quindi questo ve lo dico così da 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 essere sul pezzissimo guarda ultrasound money stanno bruciando il mondo spero di poter essere anch'io da venezia guarda se vieni mi fa solo piacere mi raccomando c'è anche il ponte del 25 aprile dai è è la situazione perfetta situazione perfetta allora vediamo ultrasound money ma in questi giorni tra l'altro ci sono anche i pinguini degli nft dei pinguini che non so per quale motivo sono tornati in voga veramente veramente polli e ebbe ultimamente non ho visto è da un po che non faccio transazioni vi dico la verità su eterium il gas costa tanto il gas alla fine ma no no neanche tantissimo eppure non male non male c'erano stati questi giorni un po più scariche poi vrom giusto judy burn judy burn chi è che burna per curiosità fatemi un po vedere uniswap maestro che roba è maestro banana gun oh mio dio ma siamo siamo già di nuovo in questa situazione mamma mia beh almeno c'è uniswap che domina trasferimenti tether solito bene bene molto bene ma di eterium la cosa che mi gasa di più è un'altra tutto un contesto che si sta creando ne parliamo tra poco perché adesso partiamo con bitcoin allora bitcoin rapidamente facciamo pure un po di di analisi di price action poi torno a leggervi quindi scatenatevi pure anche voi con i commenti in live partiamo pure dalla candela settimanale che come vedete ha chiuso l'ultima candela settimanale che ha chiuso appunto stanotte ieri notte ha chiuso da dio direi perché è tutta bella piena tutto body zero shadow volumi consistenti e siamo tra l'altro appena appena sopra vedete alla resistenza quest'area di resistenza qua che avevamo individuato nelle nelle nostre analisi l'unica cosa che manca lo dicevamo stamattina no nella nostra analisi su telegram che vi riporto proprio al volissimo aspettate che ce la dovrei avere qui sotto mano giusto per aggiornarci rapidissimissimamente tac eccola qua a proposito mi raccomando iscrivetevi su telegram lascio il link in descrizione tutto gratuito notizie in tempo reale dati e analisi e come vedete ecco l'unica cosa che mancava dicevamo è lo sweep dei ma dei vecchi massimi a 49 mila e osservare la reazione conseguente perché altrimenti c'è il rischio no di dire ok c'è stato l'innesto del movimento ma poi non c'è continuazione proprio lì no nello sweep dei massimi locali che si gioca la partita domanda contro offerta fatti domani sarà importantissimo domani mattina la prima cosa che faremo appena svegli appena ci mettiamo sul pezzo sul mercato è proprio commentare sarà proprio commentare la chiusura giornaliera di oggi perché andremo a vedere appunto in relazione con i livelli chiave dove ci andremo a posizionare quindi mi raccomando non perdetevela domani su telegram quindi dicevo ci siamo molto vicini altamente probabile un tentativo nei prossimi giorni è già accaduto oggi e poi se lo sweep non verrà assorbito e rimarremo sopra l'area 48k abbiamo il breakout se lo sweep verrà leggermente assorbito rimaniamo in range se abbiamo assorbimento molto pesante tornare addirittura 42 e mezzo abbiamo un ritorno dell'offerta come forza dominante in termini di probabilità in netto vantaggio la domanda ma bisogna sempre sondare ogni scenario possibile proprio perché si parla sempre di probabilità andandolo a vedere sul nostro graficozzo eccolo qua dunque andiamo a contestualizzare quei livelli che dicevamo il primo è proprio il vecchio top quindi 49.000 questo qua la chiusura settimanale abbiamo visto positiva e tutto quanto ma senza sweep dei massimi quindi sarà questa settimana in qualche modo sul weekly a decretare l'effettivo breakout o no sul daily possiamo già averne un assaggio perché di fatto anche lì vedete abbiamo lo stesso contesto di fatto abbiamo già un higher high rispetto ai precedenti perché il precedente high era qua a 47.000 quindi ieri e anche l'altro ieri in realtà abbiamo già chiuso sopra però mancava proprio lo sweep dei massimi locali è importante perché fare lo sweep dei massimi locali perché comunque vedete c'è già stato nonostante abbiamo ripeto un higher high rispetto alla chiusura e bisogna capire nel momento in cui si va a spazzolare dove adesso si annida la maggioranza della liquidità che è proprio qua sopra perché c'è il massimo per l'appunto locale precedente qui l'offerta è entrata in gioco abbastonato ha fatto assorbire il movimento e poi c'è stato il follow up ribassista quindi a un livello veramente chiave è stata l'origine di un fortissimo impulso di offerta quindi va ritestato bisogna provare vedere all'approccio con esso come si comporta di nuovo l'offerta lo difende e bastona di nuovo oppure stavolta ha vinto la domanda e l'offerta è stata completamente assorbita e si continua a rialzo questa è la domanda da porsi e da un punto di vista molto pratico questo significa innanzitutto guardare come chiuderemo oggi il daily che oggi è la chiusura di approccio con quel massimo lì e quindi la prima cosa è proprio guardare come termina quella candela termineremo con un assorbimento quindi ritorno sotto lo sweep e riguardo le resistenze che abbiamo rotto sotto sopra oppure chiudiamo sopra tutto quanto sweep incluso quella è la prima reazione da considerare e abbiamo detto assorbimento moderato che cosa potrebbe voler dire potrebbe voler dire andiamo a fare lo sweep e chiudiamo ad esempio qua ok quindi chiudiamo sotto i 49 mila e quello è un assorbimento moderato che ovviamente non vuol dire falso breakout magari non c'è subito la rottura e la prosecuzione ci può essere un po di consolidamento e poi si vede cosa accadrà assorbimento pesante invece è la perdita vedete dell'origine del movimento rialzista i 42 e mezzo che dicevamo prima nell'analisi quindi il movimento il falso breakout il movimento appunto è invalidato se andiamo a perdere questo livello qua e mentre appunto un assorbimento di questo tipo se andiamo a chiudere qua sotto non è nulla di che anche perché magari si potrebbe creare un una piccola accumulazione qua e poi si vede la direzione che prende ma i livelli importanti rimangono sempre quelli appunto questo qua sotto per il bear case tra virgolette perché comunque ci riporterebbe in range con offerta dominante in questo caso invece il bull case è una chiusura come anche se chiudesse così sarebbe un'ottima chiusura perché avremmo una candela prevalente body sweep fatto e chiusura sopra lo sweep c'è da dire che abbiamo sopra la nostra testa un'altra resistenza quindi non è finita qui la battaglia in quanto abbiamo l'ultima grande resistenza questa qui intorno ai 51.500 resistenza formata anch'essa durante la cioè dopo l'all time eye effettivo che c'è stato vedete un piccolo un rimbom dead cat bounce tac tac e poi il secondo bounce ha formato quest'altro livello di resistenza che ci aveva ostacolato qualche settimana fa quindi di fatto è una situazione ancora non banale da gestire se chiudessimo qui come ad esempio è accaduto ora ci sarebbe buona probabilità anche magari di utilizzare questi due livelli per fare un po di lateralizzazione barra storno non sarebbe uno scenario improbabile se invece ecco continuassimo subito rompendo la resistenza anche dei 51 52.000 fomo mode lì veramente non c'è più nessun tipo di resistenza fino all'all time eye questa è proprio l'ultima è l'ultima resistenza su time frame settimanale prima dell'all time eye che a 65.500 non è più così distante ormai appunto ci separa soltanto questa resistenza e ritorna poi il rischio di per estensione nel caso in cui ripartiamo in modo parabolico perché ripeto non abbiamo ancora avuto abbiamo avuto sì un po di lateralità ma non c'è ancora stato uno storno vero e proprio cioè il primo tentativo di storno è stato assorbito con una forza pazzesca e questo evidenzia come anche in una fase dove di fatto cioè qui non c'è stata fomo non so se se vi ricordate questi ultimi mesi cioè non sono stati mesi da come il 2021 per chi c'era no era era molto diverso un po un 2020 se lo vogliamo paragonare col passato che però questa volta come dice grayscale questa volta è molto diverso è davvero diverso perché di fatto che cosa abbiamo per bitcoin di diverso nell'alving 2024 che andremo ad affrontare tra qualche mese innanzitutto vabbè supply impact l'alving lo sappiamo come si comporta e sappiamo bene quindi che è già apprezzato no in termini di di aspettative cioè l'alving sanno tutti che c'è non bisogna aspettarsi che il giorno dell'alving esplode il prezzo o robe di questo tipo no perché appunto è un evento chiaro come l'acqua non non è non bisogna speculare intorno a questi eventi sul breve questa è una regola veramente importante come lo è stato durante proprio a cavallo dell'approvazione dell'etf chi ha speculato qua si è fatto del male perché vedete falso movimento su falso movimento giù ti intrappola e basta quindi è proprio il modo più facile per regalare capitale agli exchange farsi liquidare stoppare e veramente cioè quando non ha senso proprio operare così sul breve termine a meno che uno non sia appunto un trader molto in gamba professionista che opera proprio su queste tipologie di setup ma ci vuole metodo dire io faccio questo perché secondo me sell the news perché qui perché lì lascia il tempo che trova e va a finire che poi uno si becca dei falsi movimenti e si fa solo del gran male questo sarà lo stesso per l'alving quindi mi raccomando non siate quello che dice no l'alving sarà sell the news no l'alving pomperà vi prego non operate sul breve a meno che non siate trader ovviamente evitate di farvi del male operando sul breve sull'alving perché è l'evento più prezzato degli ultimi quattro anni però questa volta cosa abbiamo allora situazione miner ecco la cosa che cambia di più riguardo all'alving è proprio la situazione dei miner alcuni possono andare in difficoltà perché gli si dimezza la rendita a tutti gli effetti no la produzione di bitcoin si dimezza e il miner alla fine spende uguale perché non è che spende meno in costi operativi e ha la metà delle entrate e soffre ok in particolare se non è ben strutturato questo è importante perché in realtà qui viene mostrato come i miner si sono preparati soprattutto quelli appunto più strutturati come quelli quotati in borsa alcuni hanno raccolto equiti hanno venduto azioni insomma si sono mossi al fine di avere della liquidità pronta proprio per affrontare eventuali stress che potrebbero presentarsi proprio a cavallo dell'alving perché è proprio cavallo dell'alving il momento un po più difficile in quanto la produzione di bitcoin si dimezza la power rimane come era prima e quindi appunto c'è ancora da fare l'aggiustamento di difficoltà poi se alcuni miner soffrono e vengono estromessi dal network perché non ce la fanno più a stare dietro alla proprio alle nuove condizioni finanziarie che bitcoin impone se ne vanno e dicono ragazzi io chiudo i battenti si abbassa magari un po' l'hash power si aggiusta la difficoltà e ritornano a un maggior equilibrio e quindi i miner che si sono preparati meglio sopravvivranno e andranno avanti è un'industria il mining d'altronde poi che cosa abbiamo abbiamo più attività on chain su bitcoin questa sembra una banalità ma secondo grayscale è molto importante si parla di ordinals soprattutto vedete che hanno iniziato a pagare fee ai miner fee non indifferenti tra l'altro che vanno ad aggiungersi per l'appunto alle fee che vengono incassate dalle ricompense di blocco e questo ovviamente va ad alterare in positivo stavolta l'equilibrio dei miner stessi e quindi questo è una cosa diversa che in passato non c'era e va tutto a vantaggio dei miner dell'hash power e della sicurezza del network qui ci sono alcuni altri dati e taproot l'adozione di taproot che è aumentata tantissimo e c'è anche una piccola che io la chiamo ancora speculazione qui viene messa giù come una cosa attuale ma io penso sia ancora una speculazione il layer 2 roll up su bitcoin che come nuova frontiera della scalabilità ce n'è alcuni non mi ricordo il nome ma volevo farci un contenutino dedicato quindi lo faremo a breve la proprio dedicato alla scalabilità di bitcoin vorrei fare un bel video dove si fa il punto della situazione sulle possibili soluzioni e come vedete i roll up layer 2 come come accade su etereum no ma su bitcoin basati su taproot e quindi non esattamente uguali ai layer 2 roll up di etereum per ovvi motivi ma con lo stesso senso quindi portare la scalabilità su layer 2 e mantenere il layer 1 come settlement layer data availability layer ovviamente per chi ormai mastica questi termini come spero tutti voi e che questo ci aiuta appunto a portare a sgravare un po il network bitcoin dalla dall'onere delle transazioni aiuterebbe tantissimo ovviamente ad abbassare i costi delle semplici transazioni e poi abbiamo la la madre di tutte le fonti di domanda gli etf lo so che sembra una cosa trita ritrita riritrita di nuovo ma ragazzi gli etf hanno cambiato veramente tutto non si può negare perché abbiamo dei numeri pazzeschi cioè giovedì e venerdì scorsi sono entrato in due giorni un miliardo di dollari in due giorni e giusto così anche per dare una dov'è che era l'avevo salvato mi pare almeno fatemi un po vedere se l'avevo salvato nei segnalibri era un no aspettate che ve lo vado a recuperare perché mi piaceva un sacco quel paragone lì torno subito non scappate guai a voi se scappate dove che spita l'ho messo e praticamente faceva vedere come l'accumulazione di bitcoin da parte degli etf aspettate lì ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho eccola apri era un grafico molto carino eccolo l'accumulazione di bitcoin questa è quanto i bitcoin quando gli etf hanno accumulato in termini di bitcoin escluso gbtc ovviamente hanno superato microstrategy in un mese di attività dal lancio hanno accumulato più bitcoin di quanti ne accumulate microstrategy in tutta la sua storia cioè è un impatto pazzesco si parla di 10 miliardi poi ci sono stato un po di fuoriuscite da grayscale ma anche attualmente anche al netto delle fuoriuscite da grayscale non ci sono questi numeri ma comunque gli etf escluso grayscale hanno più bitcoin di microstrategy e la cosa è notevole no fa capire l'impatto che ciò porta no perché tu da una parte hai una una un'emissione ridotta dopo l'alving vedete qua c'era anche qua un grafico che mostrava forse era qua sotto eccolo da 14 miliardi a 7 miliardi di dollari l'anno erogazione di bitcoin via mining quindi bitcoin generati dai nuovi blocchi con in più la domanda che adesso c'è da vedere sul lungo termine come impatterà ma sicuramente adesso sta già impattando cioè di fatto la retorica del momento è questa no la fonte di domanda una delle fonti di domanda dominanti arriva proprio dal dal lato istituzionale sono i dati a dirlo perché se si guardano questi numeri degli influssi degli ultimi giorni sono numeri veramente che lasciano con la bocca aperta dal mio punto di vista sopra ogni aspettativa io mi aspettavo interesse negli etf di bitcoin ma non così tanto sul breve sinceramente io pensavo che sì sul lungo termine avremmo visto influssi di capitali importanti ma 3 miliardi di dollari in un mese ha superato le mie aspettative ve lo dico proprio sinceramente quindi sono curioso di vedere come questi numeri andranno avanti ma questo appunto è una fonte di domanda che non si può ignorare poi arriva la la sparata di fomo no preparatevi per una un rally di fomo a massimi da record che ha fatto il giro del web questa notizia un'analisi di bernstein che secondo il quale appunto questa questa combo no di etf e alving se catalizzata dalla fomo fomo che quest'anno per la prima volta coinvolgerà una scala molto più alta perché può andare in fa molto ridere ma può andare in fomo anche il bumerone che investe in etf e può allocare a bitcoin cioè non deve aprire l'account sull'exchange far che i uoi sì che di magari dice no sta roba non la faccio non mi fido compra le tf e può andare in fomo anche lui no magari appunto diceva sale che cos'è sto bitcoin boccia le tf lo compro no quindi fa il classico compratore ai massimi storici come accade sempre no che poi è la gente che si fa male ovviamente però lo può fare anche chi chi prima non lo faceva perché non aveva gli strumenti finanziari per farlo e quindi secondo bernstein questo porterà un rally veramente fotonico che ha senso come ragionamento però io quando vedo così tanta fomo mi si accende un allarme da qualche parte quindi non lo so inizio a bere un po di acqua ghiacciata a metterla fomo cuffia e dire calma un attimo c'è troppa fomo nell'aria quindi torniamo con i piedi per terra stiamo a guardare come vanno le cose i fondamentali sono estremamente positivi non facciamoci aspettative esagerate questo è importantissimo per la sopravvivenza in questo mercato non esagerare le aspettative non sovresporsi e non avere fretta ragionare sul lungo termine chi l'ha fatto in questi anni e adesso si trova qui si trova qui in una posizione di enorme vantaggio e quindi godetevela conservatela non sprecatela non bruciatela e chi sta arrivando adesso mi raccomando niente fretta per l'amor di dio e non dovrebbero anche approvare le tf di bitcoin sul mercato cinese a hong kong è vero c'è in ballo hong kong c'è in ballo hong kong e ma adesso ti daranno ti ridanno lo shot di copertura su ftx guarda non lo so me lo ridaranno i nuovi ti immagini se andiamo a nuovi massimi e mi rimborsano con ftx che si dice che potrebbero rimborsare addirittura il 100% e mi rimborseranno lo short liquidato ti immagino io non lo so ormai ormai lo ammetto sul ridere bonus di bybit perché ha completato inquizione sta per arrivare mi hanno scritto oggi mi hanno detto che è a questione veramente di poco io vi avviso su telegram non preoccupatevi vi avviserò in tempo reale su telegram e ma in italia sono già acquistabili no in italia no perché mancano dei documenti che l'europa richiede arriveremo un milione uscite di casa avvertiti vicini chiediamo al sindaco di ogni paese di fare l'annuncio pomo cuffie ragazzi consiglieresti di investire adesso per il lungo termine su bitcoin guarda vi do un consiglio spassionato investire sul lungo termine non deve voler dire inizio adesso domani tra un mese ieri se lo fai sul lungo termine devi solo ragionare sull'allocazione di portafoglio che vuoi dare a quel a ogni asset e sulla strategia di gestione di questa allocazione se vuoi fare il pack il value averaging il pack con l'accantonamento di liquidità tanti metodi ci sono in base chiaramente alla tua esperienza e al tempo che hai a disposizione e basta ma non dire inizio adesso inizio domani inizio ieri tra un mese perché non devi bisogna uscire dall'idea di fare timing di mercato perché non si può fare non si può dire compro adesso che è più basso perché poi sale poi scende altrimenti stai provando a prevedere il futuro cosa che non funziona quindi mi raccomando imi 1 giugno mi sposo grande tanti auguri allora congratulazioni mamma mia congratulazioni e top 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 e aspettate mi è saltata la chat avevo visto c'era anche un follow up di questa cosa jup l'unica che non pompa stavolta ho fatto bene a dampare il giorno 1 dai meno male faremo l'addio al celibato proprio il 26 alle 20 no va bene impazzisco no vieni vieni ti ci penso io a te allora vieni ricorda mio sono quello che si sposa vedrai che succederanno poi il matrimonio vamo va a rotoli va a monte no scherzo ovviamente però faremo grandi cose e allora anche mio fratello si sposa spero di riuscire a fargli un bel regalo grazie a bitcoin speriamo speriamo dai e allora 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 imx ha rotto una resistenza importante imx è vero mi sembra anche a me ha spinto abbastanza ha svipato a guardate oggi stesso ha svipato i massimi anche lui molto interessante imx vediamo come chiude adesso proprio oggi fresco fresco vediamo vediamo nel mirino anche mx nel mirino anche mx torniamo a noi ragazzi ethereum prima di di perderci prima di di ethereum io vi avviso di una cosa che allora venerdì riapriremo le iscrizioni per la sessione di marzo sì di marzo dei nostri workshop trading e investimento che vi ricordo sono otto ore di lezione dal vivo in presenza online ovviamente con i nostri formatori a tema ovviamente trading o investimento sono due ore ogni lunedì quello workshop trading e martedì quello investimento potete scegliere quello che vi interessa ovviamente uno è dedicato a chi vuole intraprendere un percorso serio di trading non nella magia per fare mille per ma poi la disciplina il rigore il metodo qua ci sono se vi interessa tutti gli argomenti dello stesso quindi appunto ve li ho già letti mille volte gestione del trading gestione emotiva backtesting trading journal l'orizzonte temporale gestione del rischio tutto quello che c'è da fare no per iniziare questo è trading base per chi inizia nel frattempo si sta preparando anche quello avanzato che sarà veramente una quantità di materiale pazzesco e quell'investimento dedicato invece a chi vuole appunto allocare sul lungo termine queste sono le date poi si terrà si può tenere le registrazioni e il materiale didattico utilizzato dai formatori a supporto della della lezione che verrà fatta domande risposte libere ovviamente come essere in una classe a scuola immaginatevi prezzo promo perché il vero prezzo è il 30 per questo è scontato del 30 per cento siamo ancora in modalità promo quindi per entro entro il weekend sarà acquistabile a prezzo promo e vi volevo dire ecco che un posto è all'asta di cippini quindi se vincete l'asta dei cippini sapete che adesso abbiamo lanciato le aste di cippini per rendere i cippini ancora più utilizzabili e chi vince l'asta che termina proprio venerdì ha un posto nel workshop a scelta gratuito che lo paga quindi solo in cippini l'offerta vincente è 1251 e la base d'aste era mille cippini avevamo fatto quello di prova questo weekend per una maglietta che è stata vinta da qualcuno di voi che ho visto tra l'altro prima era in chat e l'ha scritto spero che poi ti piacerà e quindi mi raccomando state sul pezzo anche con le aste dei cippini perché adesso andiamo avanti a macchina a fare aste di cippini e venerdì riapriamo i nostri workshop quindi anche quelli se vi interessano ovviamente non perdetevi lì perché poi si va alla sessione di aprile ci sono 20 posti al massimo per ognuno per evitare di finire in cacciara ovviamente per mantenere una qualità di un certo tipo che è fondamentale se si fa domande risposte quant'altro allora parlando di etereum non so se avete notato che c'è stata questa impennata nel tvl dell'ultimo periodo e noi ne parliamo ormai è da un po che ne parliamo no di questa nuova di questo nuovo trend molto forte dopo il trend dei layer 2 modularità data availability che ormai spero li abbiate un po digeriti no io ve li ho introdotti un po alla volta per tenervi al passo no con ciò che sta accadendo nel mondo on chain etereum adesso è al centro di un nuovo trend di nuovo che si chiama restaking che è la possibilità di utilizzare il pool di validatori di etereum per validare servizi esterni oltre a etereum abbiamo parlato dei rischi abbiamo parlato di quello che che di perché è utile un servizio di questo tipo dei driver di domanda aggiuntivi che potrebbe portare quindi etereum diventa una sorta anche di security as a service security non come la intende gary gansler ovviamente ma in termini proprio di sicurezza della chain da un punto di vista di consenso per eventuali servizi esterni e questo è veramente tanto valore se si incanala nel modo corretto quindi io sfera di cristallo sicuramente ci sarà la classica bolla immagino nel mondo del restaking se diventerà un trend così forte dove nasceranno cose completamente inutili fine a se stesse quindi il mio consiglio rimane sempre quello di stare alla larga dai token dei protocolli del caso il mio personalissimo punto di vista che penso irdropperanno incentiveranno quindi ripeto sono saranno soldi gratis potenzialmente interessanti ma per come la vedo io da dampare un po come fossero farmati no come ai tempi della defy farm and dump e quindi ecco quello è fondamentale ma parlando di dati allora questo incremento è dovuto proprio principalmente al restaking e al liquid restaking che sono un po i trend del momento allora restaking abbiamo il gain layer che è il protocollo di restaking con le prospettive di airdrop futuro ovviamente anche e da quando ha alzato il tetto no del cap massimo il suo tvl ha già schizzato a 6 miliardi e 2 ok ne abbiamo già parlato di cos'è cosa significa e quant'altro e quindi è interessante da questo punto di vista il liquid restaking se noi andiamo nel dove 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 categories categories liquid restaking guardate come anche qua si parte e qui abbiamo i famigerati puffer le perle le carote vi ricordate che la situazione è esattamente questa ma guardate i numeri i numeri crescono questo cosa vuol dire allora dal mio personale punto di vista se qualcuno vuole evitare i rischi quindi non esporsi a nessun tipo di rischio cioè avere meno rischi possibile ma esporsi comunque all'andamento del liquid restaking secondo me ethereum cattura anche parte di quel valore lì quindi non è necessario essere di gen per essere esposti ma è sufficiente detenere ether perché ether se il liquid restaking va bene ovviamente il il valore viene catturato quindi non c'è bisogno di fare restaking liquid restaking andare a farmare carote mica carote quello ovviamente per chi vuol fare un po il di gen speculatore può avere senso ma ci sono dei rischi da comprendere altrimenti si può evitare tranquillissimamente non bisogna mai fare cose che non si comprende e quindi e comunque esporsi lo stesso al potenziale successo del restaking e questo secondo me su ethereum è un grosso diciamo possibile catalizzatore no il prossimo bear market ha un nome ma è importante anche capire quali sono i rischi perché non bisogna confondere i rischi del restaking con i rischi della leva finanziaria no quindi un po come era accaduto nel ciclo passato con le insolvenze varie è molto diverso c'è sempre una sorta di effetto leva ma la leva è sulla validazione non è sul non c'è componente di debito ok quindi la cosa importante è sempre la solita no comprendere i rischi se li si vuole correre altrimenti non correrli quella è sicuramente la scelta migliore no però io invito all'approfondire bene i rischi cioè non non dire come non lo so è come le stable coin che vanno a zero a robe del genere perché in realtà sono dei rischi molto differenti non vuol dire che non ce ne sono ma sono molto differenti e questo trend noi tanto lo seguiremo di volta in volta e capiremo in che direzione stiamo andando ma oggi non volevo parlarvi di robe strane ma soltanto di farvi vedere i dati a supporto di questo trend che sta crescendo vertiginosamente e il prezzo di ethereum è in ritardo sta laggando no rispetto a ciò e quindi è una situazione da monitorare dal mio personale punto di vista questo è il grafico ethereum bitcoin in particolare questo è il time frame settimanale è interessante vedere l'approccio con questo ai 0,06 che abbiamo vedete c'è stato un forte rifiuto con l'offerta che ha bastonato ci ha bastonato in testa all'approccio e se andiamo appunto a propagare il bottom e a fare cose del genere potrebbe diventare interessante soprattutto proprio sull'onda del discorso del restaking e dintorni ecco questi sono un po i trend da tenere sotto controllo la modularità è ormai appunto tra dimension celesti e quant'altro chi più ne ha più ne metta anche quello lo stiamo seguendo con molto interesse ma ripeto il la ciccia al momento ciò che è veramente caldo ma caldo che scotta è proprio il restaking e noi ovviamente lo seguiremo amici miei state state tranquilli che non vi faccio perdere nulla dal punto di vista informativo perché lo ripeto anche a costo proprio di farvi venire la nausea e l'orticaria non correte mai rischi che non comprendete e controllate ve ne prego quindi non andate a fare i pin in protocolli di liquid restaking se non sapete cos'è il liquid restaking come funziona ma solo per gli airdrop non fatelo mi raccomando e perché giusto come dice alessia parole sante molti più soldi sono stati persi nel cercare di speculare sulla de fai che non restando investiti in eterium e bitcoin ed è esattamente come dire quando hai eterium e bitcoin anziché cercare la gemma da 100 per che poi ti va a far perdere degli etere bitcoin meglio tenerli fermi se non si sa fare le cose o non si ha le idee chiare meglio tenere le cose ferme lì e godersi propri eterium e bitcoin o comunque il portafoglio investimenti di lungo termine che si è deciso di detenere tutto lì tutto lì ragazzi allora hai sentito dell'accordo tra babylon e cosmos hub non lo so no no me lo sono perso me lo sono perso e domandina su dimension ho messo in staking su dimension cosa significa restake il restake ha a che fare con eterium è il mettere in staking eterium non solo per validare la chain eterium ma anche per validare servizi esterni tramite un proxy un protocollo intermedio come i gain layer e poi c'è il liquid restake ma faremo un video dedicato datemi il tempo di di declinarlo nel modo corretto perché ci tengo comunque a informarvi in tutto no su dim c'è scritto restake oddio dove dov'è che c'è restake staking cioè qua in teoria si si delegano i dim no qua c'è un bel ddos fantastico è giù mi son perso qualcosa c'è restaking su dim ah redelegate ah ok 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 redelegate quello significa delegare a un altro validatore da wallet dimension il restaking è quando fa il claim delle reward è staking in un'unica azione beh però non è non è restaking quello di fatto cioè restaking redelegate è quando cambi validatore e tu rideleghi appunto dal validatore al validatore b dai la tua delega a lui ma invece su cosmos c'è restare stake si è un po' fuorviante come termine e lo chiamano restake ma il redelegate si oppure restake delle ricompense cioè tu riscatti le ricompense di staking e le rimetti subito in staking è un po' fuorviante come termine non è il restaking inteso come i gain layer ecco e quindi niente ragazzi attenzione occhi aperti su ethereum perché io lo sto seguendo a parte che io ho la mia posizione mi fa molto ridere la mia posizione aperta da 750 anni ormai che è sempre lì che va su e giù su e giù poi sicuramente mi partirà lo stop loss e partirà poi a rialzo nonostante l'ho messo a chiusura settimanale vabbè comunque no questo era giusto per costruirvi un po' il quadro della situazione attuale prima di leggerle vostre ultime domandozze a un'altra cosa su ethereum guardate sempre per le metriche fondamentali con un po il tema del restaking questa dashboard tra l'altro bellissima di the block se solo mi chiudesse sto pop up ok e allora la percentuale di ethereum in staking guardate è ripartita alla grande e siamo al 25 per cento quasi di ethereum circolanti in staking e vedete che la coda di validazione ha ricominciato a popolarsi quindi sta ricominciando il trend di crescita degli eteri in staking anche questo è un fondamentale forte da tenere sotto controllo nel quadro proprio dei fondamentali di ethereum oltre ovviamente alla deflazione che al momento è abbastanza notevole dal merge questa è stata la deflazione di ethereum niente male e parametri ovviamente da monitorare nel tempo ultima cosa il nostro sponsor coinbase ragazzi mitico exchange dove ho acquistato i miei primi bitcoin ethereum nel cuore mitica ce l'ho ovviamente nel cuore exchange quotato al nasdaq che fa da custode per i bitcoin dei vari etf uno degli exchange più compliant più regolamentati e riconosciuti al mondo che recentemente si sta lanciando anche in italia infatti ha lanciato la loro community ufficiale telegram italiana di cui vi condivido anche il link qua se vi interessa se avete bisogno di una mano per su coinbase oppure anche solo per avere una community con cui chiacchierare del più e del meno sono molto piacevoli amichevoli invadiamola io vi lascio il link qua sotto bam tutti dentro e un saluto agli amici di coinbase italia e no scherzi a parte al di là di questo su coinbase advanced ci sono spread praticamente nulli e commissioni comunque assolutamente sensate parliamo dello 0,6 0,8 per cento che poi vanno a diminuire con il crescere dei volumi quindi se muovete un po di volumi si abbassano veramente tanto come potete vedere basta muovere insomma cifre di medie dimensioni che si abbassano tanto si può fare il piano d'accumulo e la cosa che a me piace di più personalmente bonifici gratuiti anche istantanei in euro quindi deposito pam e prelievo pam e soprattutto la possibilità di cambiare vedete quelli che chiama stable pairs tra cui c'è anche la cosa che mi piace a questa ci sono anche copie come euro usdc oppure euro usdt con commissioni praticamente zero quindi depositi euro cambi in stable coin e poi se vuoi te le invia al di fuori su rete poligon eccetera in tutto questo non paghi commissioni questo è il modo più efficiente per cambiare euro fiat con bonifico in stable coin in termini di commissioni come vedete addirittura se fate il limit order sono zero proprio le commissioni e lo stesso vale per i token di liquid staking quindi che dire io ringrazio di nuovo coinbase che ci sponsorizza alcuni dei nostri contenuti come questo e vi lascio il link in descrizione se vi interessa utilizzare l'exchange e ottenere un po di cripto a gratis rispondendo ai loro quiz con coinbase earn e il link alla community italiana ovviamente bene ragazzi ora tocca a voi tocca a voi ogni volta che guardo coinbase tra l'altro mi partono i fields perché mi vengono in mente i miei primi acquisti va vabbè vabbè farei un video sul cash out da ledger se ti interessa sì se ti interessa sì coinbase fa da sostituto d'imposta come binance allora binance non fa ancora da sostituto d'imposta è solo per il bollo solo per il bollo pump in diretta attenzione mi mandate in fomo mannaggia voi grafico un minuto qua ci vuole per chiudere graficozza un minuto e via va che roba che grafico mamma mia ragazzi the fomo is real si può fare trading di derivati su coinbase al momento no in italia non sono disponibili i derivati chissà che non arrivino e minetrix minetrix ragazzi a me non piace personalmente non mi sembra quelle cose con le pre sale così io personalmente preferisco starci bene alla larga e che ne pensi di caspa ci ho fatto un video dedicato lo puoi cercare e futuro di cro dipende da cripto.com e dalla cronos chain da cosa cosa ci fanno da che cosa fanno è come investire in cripto.com alla fine praticamente per l'evento del 26 bisogna iscriversi da qualche parte bisognerà iscriversi ma ve lo saprete tra vi bombardo vi bombarderò e metterò una pagina online e e da lì vi potrete iscrivere quindi tranquilli che lo saprete a tempo debito assolutamente a tempo debito cosa ne pensi di pixel launch pool di binance fatelo ragazzi fatelo sono soldi gratis il launch pool ragazzi non ci sono non c'è da farsi tante domande se avete dei bnb su binance ricordatevi di allocarli ai launch pool se no vi perdete dei dei soldi gratis cioè dei token gratis quindi mi raccomando disponibili in italia su buy bit i derivati si si su buy bit su bit get su ok x ci sono e su coinbase no non ancora perlomeno perché so che ha lanciato coinbase international coi derivati anche ma in italia al momento non ci sono pixel holdare perché no una una moon ball una moon bag alla fine anche lì cos'è play to earn web 3 quanta web 3 gaming quindi potrebbe essere bollente anche quello una moon bag tanto sono regalati ragazzi visto che se siamo in bull quando sia in bull market di solito il darli un po male non fa però vedete voi ovviamente e allora allora lo ha ti ti considera i bnb anche se c'è una figo non lo sapevo io li alloco sempre li conta a prescindere ma sei sicuro è sicuro non lo sapevo pensavo che ci vorrebbe ci sarebbe voluto l'allocazione cosa ne pensi del canale youtube coin bureau bellissimo veramente bello un grande coi bureau veramente un bel canale ti dia lo che in ogni caso ha interessante non lo sapevo bene ottimo non lo sapevo bnb su a se ce li è su earn però forse se ce li ha i fermi sul sul wallet no cioè se ce li è sullo spot wallet lino non lo so devo devo verificare ragazzi è giunto il momento di dirci ciao di salutarci io vi raccomando a su spot no esatto me lo me lo immaginavo me lo immaginavo io vi ricordo che noi ci rivediamo mercoledì non mancate per nessuna ragione al mondo in live così vediamo come vanno le cose e per vederci dal vivo ragazzi mi raccomando se siete su milano o dintorni questo giovedì dalle ore 18 noi ci vediamo lì per scaldarci dov'è eccola qua web 3 night live gratuito a lux via carpi zona lambrate vicinissimo alla stazione dalle 19 in poi pizza aperitivo in compagnia ci salutiamo ci conosciamo con un mercato meglio delle ultime volte quindi siamo anche belli contenti e poi ragazzi tenetevi carichi non carichi di più cioè infuocati per venerdì 26 aprile quello l'alving party in pratica è un airdrop di negroni non avete visto ancora niente sarà una serata memorabile ragazzi vi saluto vi saluto ci vediamo mercoledì se ci siete possono entrare gli holder di cardano non si fa nessuna discriminazione ragazzi siamo tutti amici ci vogliamo tutti bene arrivano i cippini perché giustamente poi ci sono le aste e ci vogliono ci vogliono un bel po di cippini accumulati accumulatissimi ve li mando subitissimo dove sono eccoli mi raccomando teneteveli stretti i cippini ragazzi hanno un valore inestimabile inestimabile e anche gli over 40 over 50 tutti tutti ragazzi non si lascia fuori nessuno nessuno non si vuole si vuole bene a tutti tutti quanti dal primo all'ultimo e quindi vi aspetto amici vi auguro una buona serata ci vediamo mercoledì fate i bravi ciao a tutti